Una catena colorata per riflettere sui diritti dell'infanzia e sulla diversità di cultura e razza vista come un'opportunità. Così gli alunni delle terze e quarte classi della scuola elementare Michele Abbate, nell'ambito di un progetto portato avanti con il Comitato Nisseno dell'Unicef, hanno realizzato al piano terre e al primo piano della loro scuola dei murales raffiguranti le sagome di ciascuno di loro per lanciare dei messaggi che parlano ai bambini attraverso i bambini con i corpi, i colori e le parole. Noi con molto piacere siamo venuti qua per partecipare a questa giornata molto importante perché consente ai bambini soprattutto di essere ascoltati perché uno dei propositi dell'Unicef è quello di dare la possibilità ai bambini di essere non zenditi ma essere ascoltati. Ma ascoltare i bambini non è solo una questione di parlare e sentire, ma è una questione di parlare e capire, ampliare quello che i bambini dicono e non è solo la parola quella che distingue questo aspetto ma è anche queste opere che i bambini hanno cercato di fare dando la possibilità di esprimere anche col disegno e mettere in pratica la catenomana. Sappiamo che cos'è, i bambini si abbracciano, si hanno la mano uno con l'altro, anche se sono bambini di razza diversa e la scuola Martin Luther King con le altre scuole a cui è associata è stata sempre in prima linea in queste cose, in queste manifestazioni. Quest'anno noi abbiamo voluto, a conclusione dell'anno scolastico, coinvolgere sia i bambini ma anche i genitori, per cui è stato un momento molto importante, in un'attività che in qualche modo li coinvolgesse per la giornata del lavoro che abbiamo svolto per realizzare Murales, ma un lavoro che consentisse loro di ampliare la loro riflessione anche nel restante 365 giorni dell'anno, perché in genere siamo abituati a fare delle manifestazioni, però che durano un giorno a volte tendiamo poi a dimenticare. Questa è l'occasione per genitori e alunni di tornare a riflettere sulla problematica dei diritti dei bambini, dove i bambini stessi parlano a se stessi ricordando quali sono i loro diritti. Un progetto che ha visto da parte dei più piccoli una grande partecipazione ed entusiasmo. Cosa rappresenta il Murales? Rappresenta la catena colorata dell'Unicef. Questa catena è stata ispirata a un'attività che abbiamo fatto in classe, che è stata di leggere da un libro alcuni diritti dei bambini. Quello più importante è che i bambini di diverse razze, di diverso colore della pelle, non devono essere divisi, ma invece è importante che rimangano uniti anche se hanno un colore di pelle diverso, una lingua diversa, una religione e se sono ricchi o se sono poveri. Abbiamo colorato, ma noi della nostra pelle, non siamo noi quest'età, siamo dei bambini che rappresentano molti bambini di tutte le città. Mi sono divertita molto, ho visto finalmente i miei compagni stare insieme e non litigare, e insomma c'era tanta unione. Che tutti noi bambini dobbiamo essere molto amici e non bisogna litigare.